Qualche giorno fa Riccardo Puglisi, professore di economia a cui do il benvenuto, ha scritto in un tweet abbastanza velenoso a che cosa servono davvero i minibot a facilitare l'uscita dell'Italia dall'euro. Pensiero illusorio perché le corse e gli sportelli che fanno fallire le banche e distruggere i vostri risparmi ci sarebbero lo stesso. Insomma Puglisi, ho capito che dei minibot non ha assolutamente nessuna fiducia, ma rispetto a questo caso specifico anche siciliano è giusto che sia lo Stato a un certo momento a garantire a quelle imprese che aspettano di essere pagate il giusto pagamento dei crediti? C'erano vari temi, allora brevemente sui minibot, tra l'altro sotto il mio tweet c'era il tweet di quello che si è definito in un dialogo inglese, in un inglese un po' maccheronico, the creator of the minibots, cioè Borghi, il quale dice esplicitamente o almeno lo disse nel 2017 che i minibot servono per facilitare l'uscita dell'Italia dall'euro. Quindi questa è l'interpretazione autentica di quella schifezza dei minibot. Per quanto riguarda il tema specifico che è più importante, invece di parlare di queste stupidaggini, mi ricollego a quello che diceva l'imprenditore Giglio, c'è un tema di incertezza, c'è un tema di incertezza generale perché l'incertezza è una cosa del mondo, ma dall'altra parte c'è anche un tema relativo all'incertezza delle politiche economiche, ovvero sia il fatto che non si sa che cosa il governo faccia e quindi gli imprenditori, non solo loro, ma per esempio anche le famiglie posticipano per esempio gli acquisti di beni durevoli, perché non sanno cosa succederà. Non sanno per esempio se nel momento in cui viene creato del deficit, quindi anche abbassando le tasse, poi ti ritrovi dopo un anno o due ad avere un aumento delle tasse per ripianare quel deficit, quindi questa è incertezza. Quindi le famiglie posticipano l'acquisto dei beni durevoli, dall'altra parte soprattutto le imprese posticipano gli investimenti, la componente che va peggio dell'economia italiana e tra l'altro come si diceva giustamente prima riguardo al tema della produttività fa più male alla produttività, cioè fa sì che la produttività resti stagnante, sono gli investimenti, quelli privati che sono fermi, quindi come si diceva prima ci sono imprese buone e imprese cattive, facciamo sì che almeno le imprese buone siano in grado di vivere in un clima di serenità per cui possono fare il loro lavoro, cioè investire. E dall'altra parte, qui chiudo, il governo giallo-verde-ansia come lo chiamo io, invece di dedicarsi a redistribuzione scema come i prepensionamenti di quota 100, avrebbe dovuto investire molto di più in infrastrutture, cosa che non ha fatto perché se spende 3 miliardi quest'anno ha speso tanto. Allora a proposito di imprese buone e imprese cattive, prima di andare a Diego Fusaro, filosofo e altremondalista che da marzo è riuscito ad approdare al sovranismo, vi voglio portare nel profondo Veneto perché è un pezzo importante della storia non solo dell'industria alimentare ma della storia dei nostri consumi. Il famoso Dado Knorr prende le valigie e dà l'Italia. Se ne va in Portogallo. Valentina Russo. Cinque minuti prima avevo offerto il caffè alla responsabile personale, alle 11 ci hanno dato questa notizia a tutta l'RS, insomma, e dopo che l'abbiamo condivisa con i nostri colleghi. Una doccia ghiacciata è così che la definiscono i dipendenti della Unilever di Sanguinetto. Il Dado da brodo classico del marchio Knorr non nascerà più nello stabilimento della Bassa Veronese. La produzione si sposterà in Portogallo. La multinazionale angolo-olandese ha annunciato che il reparto chiuderà e che dei 161 dipendenti in 77 rimarranno a casa. Licenziamenti considerati definitivi, niente Cassa Integrazione né altri ammortizzatori sociali. Drammatica, cioè lavoro da solo, sono sposato, due figli e quindi è dura. Onestamente alla notte non riesco a dormire tranquillo, poi al mattino il primo pensiero è quello. Dietro al licenziamento collettivo, la continua diminuzione della richiesta di mercato, il conseguente calo del fatturato, spiega l'azienda, che interpellata risponde tramite una nota in cui smentisce in modo categorico la chiusura totale dello stabilimento. I lavoratori, scesi in strada per scioperare, però faticano a crederci. Ancora fresco il ricordo delle 28 uscite dell'anno scorso. Non sono stati in grado di darci alcuna garanzia di possibili futuri investimenti per le produzioni rimanenti. Le nostre preoccupazioni sono che siamo alla seconda fase di una prima iniziata l'anno scorso e una terza che mancherà, è solo questione di tempo. Una eventualità che si abbatterebbe come un boomerang sulla piccola comunità. Consideri che prima l'Unilever era l'azienda più importante del nostro paese. Con il dimezzamento l'azienda più importante diventa la casa di soggiorno per anziani, il che la dice lunga su come siamo messi. Qua ci sono altre tante famiglie stagionali. Anche noi nell'angoscia e nella disperazione totale. Non c'è più nulla. Tutti fanno quello che vogliono, vanno dove vogliono e spendono i soldi dove vogliono. E però intanto qua l'ambiente sociale va a sfaccelli, a sfaccelli. Adesso basta, qualcosa deve cambiare. Allora, Diego Fusaro, ci risiamo. Noi abbiamo raccontato decine e decine di storie di delocalizzazioni. Ne cito alcune. Beckert, Nilfisk, Balls Beverage, Pernigotti, Honeywell. Adesso siamo al Dado Knorr. Il decreto dignità sembrava aver messo una barriera alle delocalizzazioni e invece le fughe di capitali all'estero continuano. Nil novi si potrebbe dire. Nulla di nuovo perché questo è lo scempio ordinario della globalizzazione capitalistica che mira a delocalizzare, cioè a spostare la produzione dove convenga. Vuoi perché puoi pagare meno i lavoratori non tutelati, vuoi perché non devi rispettare l'ambiente e così via. Cioè il cosmopolitismo globalista che viene salutato come se fosse la pace dei popoli, la garanzia della libertà e della democrazia, procede nella direzione opposta, cioè svuota gli spazi delle democrazie nazionali, produce quella che io chiamo da tempo la globalizzazione, cioè l'abbassamento delle condizioni lavorative della classe lavoratrice in quanto tale, genera vere e proprie tragedie come questa. Prima lei ha evocato il sovranismo. Bisogna intenderci quando si pronunzia questa parola. Se per sovranismo intendiamo il bellicismo imperialistico dei nazionalismi novecenteschi, Dio ce ne scampi. Se per sovranismo invece intendiamo la sovranità popolare, quella evocata, tanto per ricordarlo, dal primo articolo della nostra Carta Costituzionale, allora ben venga il sovranismo, inteso come sovranità popolare di una comunità democratica che si regola nel proprio spazio territoriale, pone in essere un primato della politica sull'economia e che fa sì, vengo solo al caso specifico, che il lavoro venga prima rispetto alla fuga dei capitali. Infatti Fusaro, quello che le voglio chiedere è davanti alla diagnosi che lei ha fatto, la prognosi sovranista corretta, quale dovrebbe essere secondo lei? Dal mio punto di vista la proposta sovranista e democratica e socialista corretta dovrebbe essere quella di tutelare il lavoro locale, facendo dazzi dove occorra, tutelando il lavoro, ponendo in primo luogo le persone rispetto alle merci, il lavoro rispetto alla globalizzazione dei mercati. Questo governo non sta riuscendo a farlo fino in fondo, è evidente nella misura in cui, dal mio punto di vista almeno, non sta facendo valere una posizione chiara rispetto all'Unione Europea e rispetto alla globalizzazione capitalistica. Prima deve venire l'interesse nazionale. Ma siamo dei dividori senza potere contrattuale. Allora, uno per voto, un attimo De Masi, e poi arrivo dal professor Pugliesi e poi da Brambilla. Certamente, certamente. Io credo che dobbiamo trarre due lezioni, perché il problema è pensare a quanti altri potranno cadere in questa situazione qui e evitare che avvenga. Allora, primo problema, i lavoratori debbono capire che il sindacato è importante. Lo hanno indebolito in questi ultimi 20 anni. Sono sempre meno gli iscritti al sindacato. E poi ci si accorge in questi momenti che non ci sono altri paracadute che il sindacato. Altra forza che quella collettiva. Non è possibile che il sindolo possa risolverlo. Seconda cosa, questi spostamenti sono tutti prevedibili. Sono prevedibili di uno, due, tre anni. Dipendono dal costo del lavoro, dipendono dalle tecnologie, dipendono dai mercati. Ora io proprio vorrei che, qui c'è un'importantissima sindacalista, che i sindacati cominciassero a studiare in anticipo le crisi, non quanto sono già arrivate. Io ricordo che tre anni fa, per un gruppo qui di Roma, di un grande call center, in un'assemblea alla quale mi invitarono, dissi, state attenti, perché voi fra un paio d'anni rischiate di perdere il lavoro, perché ci sono questi problemi tecnologici, questi problemi organizzativi, eccetera. E dopo due anni è avvenuto. Allora bisogna fare un'azione preventiva, prevedere queste crisi, non arrivare a tumulazione avvenuta. Certo. Re Davide, è stata chiamata in causa, vero è la necessità di saper leggere in anticipo le crisi, però nel caso specifico del dado di Unilever, il trasferimento è dentro l'Unione Europea, e se stiamo dentro quella casa comune, è difficile anche mettere delle barriere, no? Per la maggior ragione. Esatto. Intanto io vorrei dire che purtroppo il sindacato, la lettura la fa, se noi pensiamo solo FCA e Fiat, noi da mostri abbiamo dicevo, cioè non è che il mercato dell'auto perde, ma quello italiano di più, perché FCA non ha fatto nulla per non perdere rispetto alle tecnologie, eccetera. Detto questo, io penso questo, è chiaro che noi abbiamo un problema di mantenimento della struttura industriale di questo paese, è chiaro che il governo italiano non fa quello che fanno gli altri governi, ha considerato il libero mercato come punto di riferimento, questo come tutti i governi precedenti. Questo è sovranista, ma non su questo punto, diciamo così. ed è chiaro che io non penso che l'Italia sia la Cina, né che l'Italia sia l'America. E quindi penso che se noi vogliamo salvaguardare, bisognerebbe contrattare in Europa intanto salvaguardando quello che c'è. È insopportabile questa questione delle delocalizzazioni che stanno avvenendo soprattutto in Europa. E il decreto dignità, su questo permettetemi di dire, non ha fatto nulla, perché gli interventi erano fuori dall'Europa, infatti, per quanto riguarda le delocalizzazioni. Io penso che noi dobbiamo mantenere quello che c'è, fortemente far pesare il governo italiano, che ha dato risorse a tutte le aziende, perché attraverso gli ammortizzatori sociali ha dato risorse, e avere abbastanza potere contrattuale da discutere che cosa deve essere l'Europa. Perché a me l'idea che metà dell'Europa e il lavoro sia in condizioni disastrose, non è che sono contenta, bisogna alzare quel livello. E per quello che bisogna farlo. Allora, oltre al dito, Puglisi prima persino sospirava. Sospiravo perché per un paese che ha una spesa pubblica che è vicina a metà del PIL, non ho capito come si possa pensare che domini l'idea del mercato. Tra l'altro, il ruolo del sindacato è fondamentale, però la CGL ha più di meno della metà degli iscritti. Ha un debito pubblico che gestifica quella spesa pubblica. La spesa pubblica è la più bassa d'Europa. È la più bassa d'Europa. Un momento ne dà la vita, anche perché è il collegamento. La invito a non interrompermi. Allora, la questione è che il sindacato, in particolare la CGL, ha il 52% e passa, se non vado errato, di iscritti che sono pensionati. Il sindacato avrebbe potuto passare il tempo a occuparsi di più dei lavoratori che a occuparsi di contrastare le sensatissime riforme pensionistiche come la Maroni e la Fornero che servono semplicemente per contenere la spesa pensionistica davanti a una popolazione che invecchia, per cui ci sono sempre più pensionati per il numero di lavoratori. Il sindacato avrebbe dovuto fare una battaglia e qui chiudo come quella tedesca per la contrattazione aziendale, perché i sindacati sono fondamentali, ma i salari crescono nella misura in cui la produttività cresce. Questa è una battaglia che il sindacato italiano, a mio parere, non ha fatto o non ha fatto sufficiente. Un momento ancora, io vedo che a Milano, in via Bellerio, sede della Lega Nord, Matteo Salvini è arrivato e tra poco inizierà la conferenza stampa in cui commenterà i risultati dei ballottaggi. Prima di andarlo a sentire, però io voglio restare a Milano e interpellare Gianluca Brambilla anche su un passaggio di quel servizio che abbiamo visto dal Veneto, che mi ha colpito molto. Quel sindaco che diceva fino a poco tempo fa l'Unilever era l'azienda più importante del nostro territorio. Oggi invece l'azienda più importante è il ricovero per anziani. È un po' la metafora del destino di questo paese che da industriale deve arrendersi alla evidenza di offrire assistenza a chi è oramai avanti nell'età non può più lavorare. Ma lo dimostrano i commenti che avete fatto voi in studio, sono tutti commenti difensivi. Noi la globalizzazione non dobbiamo mai cavalcarla, noi possiamo solo subirla con quei ragionamenti lì, capisci? Noi invece dovremmo cominciare a ragionare esattamente al contrario. Questa produzione qua è vecchia, professor De Masi, lo sappiamo tutti, c'è da una vita questo benedetto stabilimento che fa il dado lì mi pare da 50 anni, 60 anni. Ma che se ne vada in Portogallo. Chiedo alla signora Redavid vada in Portogallo a parlare con i sindacalisti portoghesi e gli dica dovete aumentare i livelli di assistenza, degli stipendi dei vostri. Vada lei a raccontare. Noi invece in questo paese dovremmo cominciare a riconoscere, come dice il professor De Masi, gli imprenditori buoni, mettiamoli in questi termini, che vogliono investire, che vogliono fare impresa e metterli in condizioni queste di creare i posti di lavoro. Dobbiamo passare da una logica di diritti a una logica di opportunità. Dobbiamo creare un sistema che genere in continuazione opportunità. Invece noi con il decreto dignità, eccetera, 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 andiamo sempre indietro e rigidiamo sempre di più la situazione. Questo è il nostro dramma. Noi non risolveremo mai questi problemi se non abbracciamo la logica della globalizzazione e la facciamo anche nostra. Sennò siamo sempre qua a indicare diritti, diritti, lo Stato deve intervenire, lo Stato... E gli imprenditori bravi si fanno da parte, professor De Masi, in questo caso. ci sono gli imprenditori bravi, mi creda. Ma soprattutto ce ne sono tanti seduti. In Italia non ci sono più. Infatti sono tutte voti nazionali. No, ci sono, caro Re David. E come? Solo che sono seduti, sono nascosti, vanno paura. Bisognerebbe chiedersi perché non ci sono più. Si spaventano di fronti ai ragionamenti come il suo. E sai cosa fanno? È una paura. Vanno a investire all'estero, capisce? Questo è il dramma. Allora, Diego Fusaro, passare da una logica dei diritti, dice Brambilla, a una logica delle opportunità, perché la globalizzazione